Perchè siete venuti a Mazzara del Vallo? Siamo venuti per risolvere i problemi e rendere questa città più efficiente e meno inquinante. E come volete salvare questa città dall'inquinamento? Con il primo point iniziamo il cambiamento, si va verso l'efficientamento energetico e quindi il miglioramento di tutto l'ambiente. Avete intenzione di salvare altre città? Iniziamo da qui per migliorare tutto il mondo. Il pianeta Terra è molto inquinato e ha bisogno di noi. Per quanto tempo vi fermerete a Mazzara? E allora fino a domenica saremo qui a Mazzara del Vallo e poi continueremo e lasceremo ai ragazzi di A29 con il point la missione. Continueranno loro per noi. Oggi l'apertura di questo Info Point, quali servizi offrirà la A29? Allora noi ci occuperemo e come ci siamo occupati e ci occupiamo da sempre di efficientamento energetico e di energia rinnovabile. L'Info Point è un progetto che non nasce solamente per Mazzara ma speriamo che sia, è un progetto prova e speriamo che sia e che diciamo diventi qualcosa di più importante. Grazie. 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 Grazie.